Il calciatore più forte con cui hai giocato? Ronaldo. Marco? Uguale, però io l'ho preso meglio. Stava meglio. Il più grande di tutti. Perché, scusa, ma hai ragione? Perché dici nonostante non fossi... Perché aveva sette chi in più e ginocchia erano quelle che erano. Faccia due gol a partita. No, però il tuo. No, ma anche il suo, tranquillo. Anche il suo, non so se si ricorda. Cos'era la cosa che ti lasciava bocca aperta di Ronaldo? E che tu oggi parla tutti di Messi e Cristiano. Lui era uno insieme. Perché aveva la natura, madre natura di Messi e la forza e la potenza di un Ronaldo allenato.